buongiorno parliamo oggi con l'onorevole rossano sasso della lega è stato rieletto deputato presso la camera nel collegio di altamura in puglia e come sapete l'onorevole sasso ha già ricoperto nella legislatura che si sta concludendo l'incarico di sottosegretario all'istruzione quindi ormai ha già una certa esperienza sul campo senta sasso lei sa bene che i problemi sul tappeto nel mondo della scuola sono tanti quindi affrontarli tutti nell'immediato credo che sarà impossibile o comunque molto molto difficile c'è però un tema che sta molto a cuore agli insegnanti perché si trascina da molto tempo ed è il tema del rinnovo contrattuale per rinnovare il contratto in maniera decorosa occorrono molti soldi lei che cosa ne pensa cosa ritiene che si possa e si debba fare innanzitutto correggere non ovviamente lei è la sua rivista che è altamente specializzata ma con lei correggere il mondo della comunicazione che parla di aumento stipendiale in un periodo in cui le imprese chiudono i lavoratori autonomi soffrono è brutto pensare che il dipendente statale abbia un aumento dello stipendio falso noi parliamo di adeguamento dello stipendio degli insegnanti all'inflazione al costo della vita alla media europea uno stipendio che è bloccato da ormai dieci anni e che quindi dobbiamo necessariamente e adeguatamente rimodulare io in questo sono già lavoro perché è un lavoro che è iniziato evidentemente con la legislatura che sta per scadere purtroppo il governo draghi non ha dato quella spinta che tutti noi ci aspettavamo una spinta decisiva verso questo diritto ad una retribuzione più dignitosa è chiaro ed evidente che il governo di centrodestra che sta per insediarsi deve necessariamente inserire un emendamento subito nella prossima legge di bilancio io penso che ci possa essere un accordo trasversale non solo tra le forze di maggioranza ma anche tra le forze di opposizione magari andando a rivedere anche quei famosi scatti stipendiali del 2013 che letta di suo pugno cancellò cominciando a restituire il mal tolto alla categoria del personale docente senta onorevole su questo c'è anche chi dice ma si possono usare soldi del PNRR magari ridiscutere il piano con Bruxelles lei cosa ne pensa che opinione ha in proposito ma guardi se ridiscutere il PNRR al fine di dare l'adeguamento stipendiale a circa un milione di insegnanti a me sta più che bene se discutere di modificare il PNRR per fare gli interessi degli italiani a me va più che bene è chiaro che si aprirà una legittima contesa tra il governo nazionale e quello europeo però in una condizione particolare come quella che stiamo vivendo tra caro bollette tra crisi e tutto il resto ci aspetta un periodo molto molto difficile per cui l'unione europea deve venire incontro alle esigenze con tutte le cautele del caso senta onorevole e veniamo subito ad un problema sul quale l'intero centrodestra è particolarmente sensibile e in particolare lo è anche il partito della lega a cui lei appartiene ed è il tema del sistema paritario no allora giustamente dal punto di vista vostro di centrodestra voi ritenete che il sistema paritario debba essere adeguatamente sostenuto lei sa meglio di me però che su questo su questa faccenda su questa questione il mondo della scuola gli insegnanti in modo particolare non sono proprio così tanto d'accordo anzi molto spesso ci sono vivaci polemiche su questo qual è la vostra posizione come pensate di conciliare la legittima esigenza dal vostro punto di vista di dare soldi alle scuole private ma al tempo stesso non creare troppo subbuglio fra gli insegnanti della statale allora mettiamo in chiaro delle cose noi non mettiamo il sistema paritario prima di quello pubblico cerchiamo di fare ordine innanzitutto c'è un signore che si chiama berlinguer che non è della lega evidentemente ma che quando era ministro dell'istruzione nel 2000 fece una legge la 62 del 2000 dove lui che sicuramente insomma aveva discendenze di sinistra un uomo di sinistra stabilì che il sistema paritario rientra nel sistema nazionale dell'istruzione nazionale quindi non ci sono assolutamente differenze tra scuole pubbliche paritarie e scuole pubbliche questo lo stabilisce la legge lo stabilisce il nostro ordinamento e dispiace che pochi per la verità insegnanti facciano confusione le scuole paritarie non sono scuole per ricchi sono scuole che innanzitutto garantiscono la libertà di scelta educativa e che in molte zone del nostro territorio vanno a soperire a delle lacune che i comuni e che lo stato dunque purtroppo non riesce a colmare detto questo durante gli anni della pandemia hanno subito un duro colpo ne sono state chiuse tantissime e guardi che quando chiude una scuola paritaria che evidentemente ha dei costi per lo stato quegli studenti li quando tornano poi nel sistema pubblico puro hanno un costo che pari al doppio quindi anche in termini economici oltre in termini morali e culturali di libertà di scelta educativa proprio perché anche il figlio dell'operaio possa godere di questo tipo di servizio non ci devono essere queste discriminazioni poi è chiaro che se lei mi chiede cosa mette al primo posto io al primo posto metto la stabilizzazione dei precari della scuola metto l'adeguivamento stipendiale dei docenti della scuola pubblica metto l'aumento del numero degli insegnanti di sostegno e contemporaneamente metto anche la tutela e la difesa di posti di lavoro perché c'è gente che ci lavora nelle scuole paritarie. Fra le priorità che lei ha citato se ne è una molto importante lei ha parlato del sostegno quindi dell'inclusione della disabilità lei in questi in questo periodo soprattutto negli anni in cui ha avuto l'incarico di sottosegretario ha avuto anche proprio la delega sul tema dell'inclusione della disabilità lei sa che gli alunni con disabilità stanno aumentando vorrei dire anche forse un po' oltre misura cioè si parla di un aumento di 22 mila eh alunni eh nell'arco degli ultimi due anni se non ricordo male eh gli insegnanti di sostegno stanno aumentando al ritmo del quattro cinque per cento all'anno ciò nonostante eh il nostro sistema di inclusione non è proprio eh perfetto eh quindi nonostante anche le somme ingenti che si investono in questo settore che cosa c'è che non va eh c'è anche forse un problema di ehm allocazione delle risorse anche di formazione del personale lei che cosa ne dice? Quale idea si è fatto in questi anni in cui ha avuto questa delega? Che siamo lenti, siamo farraginosi, uno Stato che lascia indietro gli studenti disabili è uno Stato che purtroppo eh io giudico fallimentare. Durante l'esperienza da sottosegretario ricordo come uno dei primi provvedimenti che eh riuscì ad ottenere fu l'apertura delle scuole per gli studenti disabili anche in zona rossa e lì mi dovetti scontrare con i sindacati con stesse categorie di insegnanti di sostegno che pretendevano di fare inclusione stando a casa con dei ragazzi autistici. C'è tanto da fare mi creda dottor Palermo, c'è soprattutto da dire alle università in maniera chiara e netta di aumentare i posti affinché ci siano sempre più insegnanti specializzati perché non si tratta semplicemente di coprire le cattedre, si tratta di mandare in cattedra persone che abbiano le competenze di persone che siano abilitate, persone che siano specializzate. Noi oggi eh circa il 70% degli insegnanti supplenti che vanno su sostegno è privo di questa abilitazione. Io questo purtroppo lo giudico indegno, troppo spesso parliamo di inclusione ma nella realtà pratica, nella concreta realizzazione siamo molto indietro per cui ci vuole un surplus sia in termini di risorse economiche ma anche in termini di attenzione culturale. Purtroppo spesso questo termine è assente dai dibattiti anche televisivi dove io spesso mi ci ritrovo per cui ringrazio Tecnica della Scuola per accendere un riflettore su questo argomento al quale io tengo davvero tanto. Senta a proposito di un cambio di rotta a livello culturale forse c'è anche un altro problema e cioè che anche gli insegnanti curricolari cioè gli insegnanti di classe chiamiamoli gli insegnanti generalisti dovrebbero essere preparati sul tema dell'inclusione perché l'inclusione come lei ci insegna non la fa l'insegnante di sostegno, l'inclusione la fa la scuola, la classe, il team dei docenti e anche su questo forse siamo un pochettino indietro o no? Assolutamente sì, a me piace parlare di docente di inclusione innanzitutto, superiamo anche la terminologia come docente di sostegno. È chiaro che il docente non può essere un'entità astratta nel gruppo classe, ci deve essere una squadra che abbia evidentemente le determinate competenze e magari con la guida di un insegnante che abbia ulteriori competenze e abilitazioni. Ma vede dottor Palermo se dipendesse da me io rivedrei il completo sistema di reclutamento perché è chiaro che così come oggi non va più bene. Ecco, sento onorevole, proprio a questo proposito questa è una questione molto importante, il problema del reclutamento di tutto, di tutti gli insegnanti, non soltanto di quelli di sostegno. Allora cosa bisognerebbe fare a suo parere, a parere della vostra coalizione per migliorare, per rendere più produttivo il nostro sistema di reclutamento degli insegnanti che in effetti forse qualche problema ce l'ha. Sentiamo. Ha più di un problema, bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscere che il reclutamento attraverso dei quiz a crocette si è rivelato fallimentare, concorsi ultranozionistici che non hanno evidenziato la capacità degli aspiranti docenti a essere in grado di trasmettere il proprio sapere agli alunni, ad entrare in empatia. Io valuterei gli insegnanti non con quel tipo di concorso che tra l'altro il ministero ha sbagliato anche nella formulazione delle domande, io mi sono vergognato, sebbene non sia stata mia responsabilità diretta, di vedere addirittura domande che erano errate nella loro formulazione. A me piacerebbe valutare i futuri docenti alla fine di un percorso di formazione obbligatorio dove apprendere anche evidentemente nozioni di inclusione e di disabilità, al termine del quale valutare, selezionare l'aspirante docente, ma non con un concorso a crocette, ma ad esempio con l'esposizione orale di più unità didattiche, che è poi quello che a me interessa da padre, ancora prima che da sottosegretario. Le faccio un esempio, ho avuto in classe di mia figlia qualche anno fa in prima media un docente con un curriculum spettacolare, un docente di matematica che avrebbe potuto tranquillamente fare il professore ordinario all'università, non era in grado di trasmettere il suo sapere agli alunni, è andato via, secondo anno è arrivato un insegnante precario che era nella nostra scuola da oltre dieci anni, i ragazzi sono rifioriti. Dipende molto, dipende molto dal tipo di formazione, ci vuole più pedagogia, meno nozionismo e mi permetta di dire una cosa che sicuramente non piacerà a qualcuno, ma ancora una volta io lo ribadisco perché sono più che sicuro che una opportuna valutazione psicoattitudinale possa fare solo il bene della nostra scuola. Lei ha fatto il sottosegretario, potrebbe anche fare un piccolo salto, anzi un salto e diventare ministro, allora supponiamo che lei diventi ministro. Nei primi cento giorni del suo mandato quale cosa lei vorrebbe assolutamente fare, cioè che cosa le piacerebbe fare se lei diventasse ministro a partire dal 20 ottobre 25, non lo so quando sarà la data di insediamento del nuovo governo. Cioè proprio una cosa che lei ha in mente e dice ecco voglio fare quello. Allora da certo deputato rieletto nella diciannovesima legislatura mi permetterò di non sussurrare nell'orecchio ma di fare adeguate pressioni politiche sul futuro ministro dell'istruzione, innanzitutto per l'adeguamento dello stipendio perché siamo già in ritardo e immediatamente dopo un percorso abilitante che porti alla stabilizzazione degli oltre 150 mila insegnanti precari. Portati a casa questi due risultati nei primi cento giorni avremmo restituito davvero un minimo di serenità ai nostri insegnanti sia di ruolo che precari. Quindi se dovesse assumere lei l'incarico ci possiamo aspettare la soluzione di questi due problemi, è così? Guardi questo incarico io non lo avrò, le ripeto che da deputato di maggioranza con una certa esperienza nel mondo della scuola farò di tutto affinché queste due tematiche affrontate cioè l'adeguamento dello stipendio e la stabilizzazione dei precari sia in cima a qualsiasi cosa che riguardi la scuola. Sento onorevole mi consenta però di farle ancora una di sottoparle ancora una piccola questione, cioè piccola neanche tanto, è una questione di carattere forse più politico generale. Lei è sicuro che con i vostri alleati del centro-destra vi troverete d'accordo su tante questioni? Per esempio c'è un problema che ha a che fare con il mondo della scuola che è quello della autonomia differenziata sul quale magari non è detto che sarete proprio così tanto d'accordo con i fratelli d'Italia, con fratelli d'Italia che peraltro è anche il partito cardine della vostra della vostra alleanza. Come pensate di affrontare questo ma anche altri problemi? Ma riferiamoci pure a questo. Ma inevitabilmente ci sarà come dire una un ragionamento politico su questi e tanti altri temi. A me non dà fastidio dare più potere alle autonomie, non dà fastidio dare più potere agli enti locali. Prendo come riferimento ad esempio il Trentino Alto Adige dove gli insegnanti guadagnano di più, dove ci sono più precari stabilizzati, dove le scuole funzionano. Certo esportare questo modello, faccio un esempio, nella mia regione dove purtroppo c'è il malgoverno della sinistra potrebbe essere un rischio, però guardi più autonomia vuol dire più responsabilità. Abbiamo l'autonomia scolastica, non ci vedo niente di male affinché chi amministra i territori possa avere più voce in capitolo. Ad esempio la Lega vorrebbe immediatamente il ritorno delle province, che saremo in grado di affrontare anche le diverse sfumature, le diverse particolarità che ci sono nella scuola, nell'economia, in tutto. Siamo stati premiati come coalizione, Fratelli d'Italia è il primo partito, ma senza il gruppo Lega, il gruppo di Forza Italia non c'è la maggioranza, ma mi creda. Abbiamo sofferto per troppo tempo la coabitazione con gente che la pensava diversamente da noi, ma non con piccole sfumature come il PD o con il Movimento 5 Stelle, sapremo trovare la quadra nel futuro governo. Quindi lei dice che sul tema dell'autonomia differenziata riuscirete a mettervi d'accordo anche con Fratelli d'Italia, che pure ha una visione un po' centralista su certe questioni. Affronteremo le tematiche dipannando tutte le paure, dipannando tutte le varie insicurezze, le varie incertezze. Io scalpito perché per me ci sono, ancora prima dell'autonomia differenziata, delle battaglie importantissime e ci tengo ancora una volta a ricordarle come la stabilizzazione dei precari e l'adeguamento stipendiale degli insegnanti. Grazie all'onorevole Rossano Sasso della Lega, rieletto alla Camera nel Collegio di Altamura, tra l'altro con un risultato personale anche importante, è stato rieletto nel Collegio uninominale con più del 45% dei voti, quindi insomma è stato anche un buon risultato personale. grazie ancora onorevole e soprattutto auguri di buon lavoro, ci auguriamo che lei possa fare del bene alla scuola italiana. Buon lavoro! Grazie mille, grazie, alla prossima! Grazie mille, 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 gra